Benvenuti al nostro nuovo videogiornale. Perdono di Assisi. In occasione della solennità del perdono di Assisi la Diocesi organizza domenica 1 agosto il pellegrinaggio degli Assisani alla Porziuncola. Il ritrovo è fissato per le ore 5.30 davanti alla chiesa di Santa Maria sopra Minerva in piazza del comune ad Assisi. Il pellegrinaggio che inizierà alle ore 5.45 passerà attraverso la strada mattonata. Alle ore 7 ci sarà la Santa Messa presieduta dal Padre Vescovo nella Basilica di Santa Maria degli Angeli. Per il ritorno è previsto il servizio navetta che partirà dal parcheggio in fondo al piazzale della Basilica. La solennità del perdono di Assisi si aprirà ufficialmente il 1 agosto. Alle ore 11 il neoeletto Ministro Generale dell'Ordine dei Frati Minori, Padre Massimo Fusarelli, presiderà la solenne celebrazione eucaristica che terminerà con la processione di apertura del perdono. Così detta perché da quel momento, cioè dalle ore 12 del 1 di agosto fino alle ore 24 del 2 di agosto, l'indulgenza plenaria concessa alla porziuncola quotidianamente si estende a tutte le chiese parrocchiali sparse nel mondo e anche a tutte le chiese francescane. Alle ore 19 i primi vespri saranno presieduti dal Vescovo Domenico. Seguirà l'offerta dell'incenso da parte del sindaco di Assisi, Stefania Proietti. La tradizionale veglia di preghiera serale alle 21 e 30 sarà guidata da Padre Filippo Bezzo, Ministro Provinciale dei Frati Minori Cappuccini della Sardegna. Lunedì 2 agosto sarà possibile partecipare alle numerose celebrazioni eucaristiche previste per le ore 7, 8 e 30, 10, 11 e 30, 16 e 30 e 18. Il Cardinale Mauro Piacenza, penitenziere maggiore presso il Tribunale della Penitenziaria Apostolica, presiderà la solenne celebrazione delle ore 11 e 30. Il Ministro Provinciale dei Frati Minori di Umbria e Sardegna, Padre Francesco Piloni, presiderà alle ore 19 i secondi vespri della solennità del perdono. Sempre il 2 agosto alle ore 14 e 30 ci sarà l'ingresso in porzioncola dei giovani Rahamin nel segno della misericordia e alle ore 20 in diretta dalla porzioncola la veglia dei giovani. Durante i due giorni sarà garantita la possibilità per i pellegrini che lo desiderassero di accostarsi al sacramento della riconciliazione nel pieno rispetto di tutte le norme previste in materia di prevenzione del Covid-19. Sarà possibile seguire tutti i principali eventi in diretta mediante la web tv della porzioncola, dalla app gratuita Frati Assisi e dai canali social Frati Assisi di Facebook e YouTube. Per il programma completo consultare il sito assisiofm.it Visita pastorale a Rivotorto Si è conclusa domenica 25 luglio la visita del Padre Vescovo all'Unità Pastorale di Rivotorto e Capodacqua. La visita si è aperta venerdì con un momento di accoglienza al quale è seguita la recita della preghiera dell'ora media alla presenza di frati, suore consacrate e laici. Si sono susseguiti poi tanti momenti di incontro e preghiera vissuti in un clima di grande spiritualità fraterna. Sono stati tre giorni durante i quali il Vescovo, nel rispetto dell'enorme anticontagio da Covid-19, ha incontrato l'intera comunità parrocchiale. Il giorno precedente, l'inizio della visita, è stata celebrata la festa di Santa Maria Maddalena con la Santa Messa, presieduta nel pomeriggio dal Vescovo nella chiesina di Santa Maria Maddalena a Rivotorto. Giornata Mondiale dei Nonni e degli Anziani Anche la diocesi ha aderito alla prima giornata mondiale dei nonni e degli anziani indetta da Papa Francesco sul tema Io sono con te tutti i giorni, che è stata celebrata domenica 25 luglio. La diocesi si è stretta intorno alle persone anziane, con celebrazioni eucaristiche e condivisioni delle parrocchie, nei centri sociali, nei centri socioassistenziali, nelle residenze protette, ma anche nei domicili. Tra i vari momenti di preghiera e condivisione organizzati, un momento è stato vissuto nella casa di riposo Andrea Rossi di Assisi. L'evento è stato promosso dagli uffici diocesani di Pastorale della Famiglia, Comunità Maria Famiglia del Vangelo e Pastorale della Salute. Al termine della celebrazione eucaristica è stata distribuita e letta la preghiera della prima giornata mondiale dei nonni e degli anziani ed è seguita una presentazione di brani musicali dal titolo dedicato a voi. Un altro momento è stato rappresentato dall'incontro dal titolo, ricordando i tempi di Sant'Anna che si è tenuto in serata presso gli spazi esterni dell'oratorio accostano. Dopo l'accoglienza e un momento di preghiera è seguito l'incontro durante il quale è stata raccontata la storia per immagine dei nonni di Gesù, Sant'Anna e San Gioacchino. Infine è seguito un momento conviviale. Nella chiesa di San Vitale a Viole di Assisi, nel pomeriggio, il parroco padre Marcello Fadda ha celebrato la Santa Messa. È seguito un momento di condivisione fraterna. Ad Assisi intitolate Piazzetta Concilio Vaticano II e Largo Don Giovanni Rossi Mercoledì 21 luglio si è tenuta la cerimonia di intitolazione di due spazi cittadini nei pressi del complesso della Procivitate Cristiana, rispettivamente a Don Giovanni Rossi, fondatore della Procivitate Cristiana, e al Concilio Vaticano II. L'intitolazione, al compiersi degli 80 anni dalla Fondazione della Procivitate Cristiana, è avvenuta ufficialmente alla presenza del padre vescovo, del sindaco di Assisi Stefania Proietti e di Walter Soppini, assessore competente e vicesindaco. Progetto Policoro Mercoledì 28 luglio uscirà su Spotify e sul canale Spreaker della Diocesi la quarta puntata del podcast del progetto Policoro Wonderful 8. In questa puntata, che verte sull'arte del riciclaggio, è stato intervistato Alex Trabalsa, promotore del Movimento dello Sconforto Generale, nonché ideatore della ricicleria, realtà innovativa del territorio che unisce le esigenze del nostro tempo, come il problema del riciclo e dei rifiuti, con la fragilità umana. Ripercorrendo le tappe della sua vita da adolescente, Alex descrive come l'ideale del successo, l'acquisto di beni immateriali, le serate con gli amici, non gli portavano più gioia, ma noia e frustrazione, e come attraverso un incontro speciale, ha maturato una diversa concezione della vita che cerca costantemente di trasmettere agli altri. Vi ricordiamo di inviarci i vostri contributi video, o anche solo immagini, da tutte le parrocchie e realtà della diocesi, scrivendo un messaggio whatsapp al numero 339 388 4342. Vi ringraziamo per l'attenzione e arrivederci al prossimo videogiornale. Grazie a tutti.